Con la primavera riprende a Cagliari musica antica a Palazzo Reggio dopo il successo della programmazione invernale che si è svolta fra dicembre e febbraio. Ogni serata aveva fatto registrare in tutto esaurito. La rassegna voluta e organizzata dal gruppo Felix Musici ha raccolto l'eredità del festival Echi Lontani che negli anni aveva contribuito a diffondere la musica antica non solo a Cagliari. Un festival che tra i suoi meriti ha avuto la capacità di formare un pubblico interessato ai repertori preclassici. Il primo appuntamento con musica antica a Palazzo Reggio è domani alle 19. Solisti del concerto inaugurale di questo ciclo primaverile saranno il violinista Fabrizio Cipriani e il clavicembalista Gian Maria Bonino. Voglio sottolineare la presenza di Fabrizio Cipriani che è un violinista con una carriera alle spalle straordinaria perché è un violinista che ha lavorato con Giordi Savalle, Fabio Biondi, insomma nei più importanti gruppi di musica antica francesi con una discografia di primo ordine. Io ho avuto la fortuna di lavorare con lui in passato e quindi ho accettato di buon grado di venire qua a inaugurare questo secondo ciclo.